cari colleghi benvenuti alla presentazione del corso di chirurgia orale e implantare il corso è un corso teorico pratico che si articola su tre moduli all'interno del primo modulo tratteremo argomenti quali la progettazione di tutto il piano implanto protesico a partire dalle richieste del paziente che si presenta alla nostra osservazione fino a giungere alla selezione della tecnica chirurgica più opportuna per trattare il caso in esame verranno trattati argomenti quali la gestione dei lembi dei tessuti molli e le corrette tecniche di sutura verranno esaminati tutti i protocolli operativi per l'inserimento di impianti osteointegrati un altro importante capitolo riguarderà tutta la gestione dei tessuti molli per implantare mediante l'allestimento di lembi peduncolati e il prelievo ed innesto di tessuto connettivo nel secondo modulo si parlerà di atrofie osse quindi tutte le tecniche che ad oggi abbiamo a disposizione per la terapia delle atrofie osse dalle più semplici alle più complesse verranno prese in esame in modo analitico partendo per esempio dalla preservazione dell'alveolo della cresta e dentula passando per il posizionamento immediato contestuale all'estrazione di impianti fino ad arrivare a procedure con un grado che presentano un grado di difficoltà progressivamente superiore quindi parleremo di rigenerazione guidata sia orizzontale che verticale con membrane riassorbibili o membrane non riassorbibili e anche affronteremo il vasto argomento il vasto capitolo della ricostruzione ossea mediante griglie in titanio. Un altro argomento che verrà estesamente dibattuto e trattato all'interno del corso sarà tutto quello riguardante i prelievi di ossootologo di ossootologo particolato, di ossootologo in blocco a prelievo da siti intraorali quindi prelievi dal ramo mandibolare, prelievi dalla sinfisi mentoniera. Anche le tecniche di espansione ossea come le tecniche di split crest troveranno un ampio spazio all'interno di questo corso. Nel terzo modulo si parlerà espressamente di chirurgia del seno macellare quindi quando siamo di fronte a dei seni macellari pneumatizzati il loro inquadramento e la possibilità di accedere all'innesto del seno macellare sia per via laterale sia per via crestale soffermandoci sulle indicazioni e limiti di ciascuna di queste tecniche. Non mancherà la possibilità per i discenti di accedere tramite il portale OdontoLine ad un'aula virtuale. All'interno di quest'aula virtuale i discenti potranno mantenere anche dopo il corso i rapporti con il relatore e discutere di casi clinici inerenti alle tematiche trattate durante il corso. Vi ringrazio per la vostra attenzione e arrivederci al corso di Chirurgia Orale e Implantare.